C'è un'altra sua citazione in un'intervista del 2010 che dice «Basta con tutte queste sedie. Seggio le sgabbelli di cui non c'è davvero bisogno, tanto più che quasi sempre sono più scomode di quelle che abbiamo già. Il progetto ha ragione d'essere solo in due casi, o migliora qualcosa che c'è già o propone qualcosa di inedito?» Ma lei dice, mi fa le domande, se capisce quelle che lei ha letto è meglio di quello che posso dire oggi io, perché quando l'ho scritto l'ho fatto con maggiore riflessione. Comunque, affidiamoci alla spontaneità. È verissimo, basta seggiole. A me non fai di certi sedi che sono delle macchine mostruose che tu dici, appena vi siedo mi piglio la scossa. È molto invece interessante progettare delle cose che non ci sono. E io ho scritto un ennesimo libro che si chiama «Gli oggetti che prima non c'erano» o giù di lì. Dove mi sono rivolto alla generazione dei più giovani e qui si hanno fatto delle cose estremamente interessanti, interessanti e nuove. Per esempio una giovane designer ha fatto un oggetto con delle aperture, delle fessure entro il quale si mette il pane e poi si affetta a seconda, che lo vuoi più picco, più grande, a triangolo, eccetera. È una sciocchezza, però è importante fare questa cosa che ha senso, proprio perché prima non c'era. E così tanti altri episodi come sono raccontati in questo libro. Il rischio più comune quando si confondono comunicazione e design è quello di letteraturalizzare il design, esorbitandone la componente connotativa rispetto a quella denotativa, il che comporta la riduzione di un prodotto della cultura materiale in uno slogan pubblicitario o un manifesto d'avanguardia. Benissimo. Intanto diciamo che cosa significa denotazione e connotazione. Denotazione significa una cosa diretta, quanto sei bella, no? Poi ci può stare un significato secondo. Dico quanto sei bella pensando o anche comunicato perché mi ricorda una mia amante, una mia parente, una mia cosa. Cioè è un fatto in assenza, mentre la frase quanto sei bella è in presenza. Così un oggetto di design è presente e quindi ha un valore denotativo. Se invece parliamo di un libro che non c'è, ti ricordi quel libro? Siamo sul piano connotativo. Detto questo, perché il design come comunicazione rischia di diventare letteratura e perde il valore denotativo? Perché? Qua bisogna risalire alla teoria della pura visibilità, che è stata la teoria che ha dato inizio al pensiero e alla critica moderna. Questa teoria diceva che la forma contiene anch'essi il contenuto. Se questa forma rappresenta una scena, fai conto, una scena sacra oppure un fatto politico, una battaglia, eccetera, c'è dentro un racconto. Allora secondo questo Fiedler non era pura visibilità, era una parte di letteratura, di racconto che era inserita nella pura forma. Cioè la forma della battaglia, i cavalli, i cavalieri, oppure i santi, eccetera. E quindi quelle erano le forme che rimandavano ad un racconto e quindi la letteralizzazione. Quello che sta succedendo oggi nella crisi del design come cultura materiale e invece infatti questo design serve a comunicare lo status symbol e questo e quell'altro, eccetera, eccetera, è tutto un modo, secondo me, inquinante, diciamo, del significato puro e assoluto di questo oggetto di cultura materiale. E infatti si è arrivata allora questa epoca dell'architettura di carta, della comunicazione disegnata, promozionale e pubblicitaria, come lei l'ha definita, un'architettura di cui si parla per slogan, per parole chiave, per concept e di cui si dà un'informazione prevalentemente materiale, come appena detto. A chi è affidata oggi la materialità dell'architettura? Beh, intanto queste cose che si vigono sull'architettura sono dette da chi l'architettura non la fa. Se tu pigli un architetto vero che lavora, eccetera, beh, da lui, lui fa queste cose e non ha bisogno di ricamarci sopra racconti o altre cose. Questo è un difetto della critica, cioè che appunto non distingue denotazione e connotazione e che è alla ricerca di trovare un'interpretazione personale, originale, perché qua siamo tutti alla ricerca dell'emergenza individuale, dai politici all'ultimo scrivano fiorendino, che cerca di emergere e alcune volte queste emergenze sono legittime perché dice, quella è brava, non c'è stai né da fare, non ti da dire. Tante volte invece sono gente non brava che però è furba e fa questi giochetti, questo design serve per quest'altra cosa e ti inventa un motivo oppure col design vuole fare una battaglia ideologica, il che non è proprio, perché come dicono gli inglesi l'architettura non racconta favole. Il momento storico in cui viviamo sembra in bilico tra l'usa e getta più sprenato di cui lei stesso coglie il limite nel suo sparire senza lasciare tracce, donna il pericolo di una stagione della cultura priva di segni. Quali segni, a suo parere, lascerà l'attuale cultura materiale alla storia? Questo è difficile prevederlo, però certamente ci sarà per questa nostra epoca qualche oggetto emblematico, poco fa abbiamo parlato di telefonini, certamente ci saranno i vari modelli di computer, ci saranno tipi di automobili, cose eccetera, insomma questi oggetti o resteranno materialmente o resteranno nella rappresentazione, ma certamente quest'epoca è contrassegnata, a meno che non diventi tutto use e getta, il che è anche probabile, perché non è detto che use e getta è fatto soltanto per gli oggetti di plastico o di cartone. In un'edizione della mia storia del design ho messo in copertina tanti oggetti qualificati che stanno tutti quanti insieme e cadono in un secchio, proprio per simboleggiare questa probabilità che anche le cose nate per durare non dureranno e per cui tutto finisce in rifiuti. Gran parte della cultura architettonica italiana è stata impegnata per decenni nel tentativo di definire un'autonomia disciplinare per l'architettura e il progetto della città, guardando alla storia per rintracciarne sia gli elementi che le regole di assemblaggio. Quale pensa che sia l'eredità di quella stagione culturale, in un tempo come il nostro, in cui sembra imperversare, soprattutto nel lavoro delle archistar, quello che potremmo definire un design a scala urbana? Dunque, come ho accennato altre volte, io resto fedele all'idea che il razionalismo è stato lo stile più rappresentativo perlomeno del Novecento e quindi finché si resta nell'ambito del razionalismo le cose funzionavano, sia per l'architettura, sia per l'urbanismo, sia per il dettaglio. Quando si è rinnegato il razionalismo è venuta fuori per esempio la tendenza delle macro strutture, le quali che cos'erano? Erano un punto di incontro fra l'urbanistica e l'architettura. È indubbiamente un'idea intelligente, però era un modo per dare un colpo notevole all'urbanistica. Poi ci sta un'altra grossa differenza, che i tempi di attuazione dell'architettura sono diversi dai tempi di attuazione dell'urbanistica, per cui se lei mi commissiona un edificio oggi, fra qualche anno, due o tre, lo vedremo, se mi commissiona un piano regolatore, questo resta un programma aperto, che è una contraddizione in termini, un programma aperto, un programma si chiude, io voglio fare questa determinata cosa in tanto tempo e questa cosa l'urbanistica contemporanea non l'ha fatta, per cui la crisi dell'urbanistica è una crisi dovuta proprio a una carenza disciplinare sostanziale dell'urbanistica stessa.